Buongiorno, bentrovati. L'appuntamento di mattino 6, la lettura dei nostri quotidiani. Partiamo dal santo del giorno, Santa Geltrude, viene ricordata oggi dalla Chiesa Cattolica che nacque a Abienno in Valcamonica il 18 gennaio del 1847, lo stesso giorno della nascita. I genitori la portano al fonte battesimale della Chiesa parrocchiale e le diedero il nome di Caterina. Caterina che nella vita si dedicò senza trascurare i suoi doveri di domestica anche all'educazione dei bambini di San Gervasio in provincia di Bergamo e poi il 15 dicembre del 1884 la decisione di vestire l'abito religioso e di prendere il nome di Sor Geltrude del Santissimo Sacramento. La fondatrice poi fu fondatrice di un ordine di religiose e morì il 18 febbraio del 1903. La notizia in breve tempo si sparse a quanti la conoscevano specie la gente umile e povera. Da lei prediletta unitamente la dichiararono santa. Il 9 agosto del 1926 la salma venerata fu trasportata dal cimitero di Bergamo alla casa madre dell'istituto. Da lei fondato dove tuttora giace in apposita cappella attigua alla Chiesa dell'Adorazione. La Chiesa esaudendo il desiderio di moltissime persone. Il 18 febbraio del 1928 aprì il processo diocesano sulla santità della vita di madre Geltrude sulle sue virtù e i suoi miracoli e si concluse nel 1939. Nello stesso anno sotto il pontificato di Pio XII si apre il processo apostolico. Il 26 aprile del 1961 alla presenza del Santo Padre Giovanni XXIII ha luogo la congregazione generale dopo la quale è data lettura del decreto sulla eroicità delle virtù praticate da madre Geltrude alla quale viene attribuito il titolo di venerabile. Il 1 ottobre del 1989 viene proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II e il 26 febbraio del 2009 è stata canonizzata da Papa Benedetto XVI che ne ha dato evidenza nella solenne cerimonia che si è tenuta il 26 aprile del 2009. Santa Geltrude dunque riconosciuta santa dalla Chiesa Cattolica. Noi apriamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine del centro partendo dall'edizione di Pescara per andare a vedere quali sono i titoli principali. In questo caso l'edizione di Pescara del centro si apre purtroppo con l'ennesima notizia di sangue che riguarda le nostre strade schianto muore il giovane padre Rosciano tragedia causata dalla nebbia Mirko Martelli aveva 38 anni, vedete quel che resta della sua panda praticamente distrutta dopo questo incidente. Poi un'altra notizia che arriva da Sulmona stroncato mentre si allena si accascia a 56 anni sulla pista di atletica. Poi le altre notizie che riguardano le cronache Sanità Pescara un anno di attesa per la mammografia e poi la tassa sui rifiuti sarà meno cara il comune riduce l'imposto e poi la sentenza chiede soldi al cliente condannata la banca. Lasciamo l'edizione di Pescara del centro andiamo a vedere l'edizione di Chieti Lanciano Vasto per vedere anche in questo caso quali sono gli argomenti trattati nella prima pagina in questo caso il titolo arriva proprio da Chieti perde risparmi colpito da Ictus ex Carichieti, padre di una ragazza disabile non regge allo shock e poi la fotonotizia Portaterna in tribunale vuole riavere il suo terreno la battaglia di questa donna contro i Tralicci poi le cronache Chieti vandali assaltano l'ex Centromenza e poi Farah San Martino addio Cipollone simbolo del podismo la scomparsa di Costantino Cipollone presidente del gruppo podistico la sorgente di Farah San Martino ne abbiamo parlato ieri anche nel corso della nostra trasmissione Mondo Wisp perché Costantino Cipollone era dirigente della Wisp del settore atletica della Wisp e questa mattina si terranno i funerali di Costantino Cipollone proprio a Farah San Martino un amico della Wisp un amico dello sport abruzzese andiamo avanti vediamo la prima pagina del centro edizione di Teramo poi chiuderemo con l'edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona partiamo dall'edizione di Teramo vediamo che il primo titolo riguarda la cronaca giudiziaria inquinano sigilli a due aziende Nereto lavanderie industriali i cinesi scaricano nel fiume Vibrata e poi gli antichi mestieri che spariscono l'ultimo barbiere di Castiglione chiude a 83 anni e poi a Tortoreto si mette in tasca le tasse sulle slot a processo e si finge avvocato siamo a Teramo e truffa a due anziani rubati 3.500 euro e poi cardiopatico grave salvato all'ospedale Mazzini di Teramo questa notizia che arriva proprio dal capoluogo a Prutino chiudiamo con l'edizione dell'Aquila Avezzano Sulmona del quotidiano il centro poi andremo a vedere anche dal sito del ministero dell'interno i titoli che riguardano i principali quotidiani italiani poi daremo uno sguardo anche alle pagine del messaggero e nella seconda parte come sempre andremo ad approfondire gli argomenti di carattere regionale ecco il titolo principale dell'edizione del centro dell'Aquila muore a 56 anni sulla pista di atletica sul Mona l'uomo stroncato da un malore durante l'allenamento e poi questa fotonotizia vedete filosofia storia dell'arte sbadigli da Alfonso e Cialente tornano a scuola e poi le cronache per l'Aquila 500 posti con i fondi post-sisma a Carsoli botte e minacce alla ex di nuovo arrestato a Sulmona 8 parroci criticano il ritorno al voto in Valle Peligne e poi in Marsica andiamo a Tagliacozzo ricorderete l'incendio delle auto accaduto doloso accaduto qualche giorno fa il PM dice non è un attentato per la procura non c'è allarme sociale l'altro giorno c'era stata una manifestazione di solidarietà nei confronti della persona rimasta vittima comunque di questo atto intimidatorio lasciamo le pagine le prime pagine del quotidiano il centro andiamo a vedere come vi dicevo i titoli dei principali quotidiani italiani grazie al sito del ministero degli interni lo faremo tra qualche secondo partendo dal quotidiano di Milano il Corriere della Sera ecco qui Corriere della Sera prima pagina Veti accuse Renzi Gela Berlino no al tetto sui BTP nei conti delle banche poi l'attacco agli istituti tedeschi hanno troppi titoli tossici titolo importante che riguarda in alto anche le unioni civili il voto slitta di sette giorni Cirinna tradita dall'eliti nei dem ovvero nel partito democratico dal Corriere della Sera alla Repubblica unioni civili legge nel caos la mossa del Movimento 5 Stelle spiazza il PD Cirinna ho sbagliato io a fidarmi Renzi avanti no ai ricatti grillini e poi da Latane Bignardi due donne ai vertici Rai sindacati a Dall'Orto troppi esterni uno schiaffo andiamo ancora avanti vediamo qualche altro titolo uno in particolare che riguarda la visita del Papa in Sud America il Papa al muro che divide Stati Uniti e Messico avete il diritto di sognare proseguiamo con il quotidiano la stampa di Torino assalto ai militari strage ad Ancara ancora un attentato nella città turca con 28 morti e decine di feriti vedete queste immagini girate proprio nel momento seguente l'attentato e poi sfida in Senato la spallata di Monti per far cadere Renzi basta attaccare l'Unione Europea andiamo più a centro pagina si parla di sprechi di Stato e un quinto degli sprechi di Stato è dovuto a corruzione e tangenti proseguiamo siamo al sole 24 ore quotidiano economico che tratta soprattutto del rally delle borse del petrolio piazza affari sale del 2,5% ieri giornata positiva per le borse e anche soprattutto per quella di Milano andiamo ancora avanti dal sole 24 ore al messaggero debito e irpef affondano Roma dossier del commissario scozzese voragine record di 13 miliardi e 600 milioni nei conti del comune così impossibile ridurre l'addizionale Confcommercio dice tasse locali triplicate in 20 anni e poi unioni civili tutto rinviato ma Renzi dice la legge si farà e siamo al giornale documento shock sul debito economisti vicini a Draghi avvisano Renzi se non cambi dovrai mettere le mani nelle tasche degli italiani e poi nomine da Vanity Fair Bignardi premiata per i suoi flop Miss 3% sarà direttore di Rai 3 si parla delle nomine in Rai e poi più in in basso cara sinistra sugli appalti Maroni è meglio del tuo sala c'è questo articolo che parla di appalti ma non solo proseguiamo libero le invasioni barbariche di Renzi anche in questo caso il titolo principale riguarda le nomine in Rai la Bignardi direttore di Rai 3 la conduttrice premiata per l'estinzione della sua trasmissione mancanza di ascolti e per le interviste in ginocchio al premier nomine tra amici anche per Rai 2 e Rai Sport tutti esterni all'azienda tanto noi paghiamo il canone titola il quotidiano libero e siamo al foglio quotidiano che tratta soprattutto questioni di carattere politico e il primo titolo in alto Cirinnai PD per non regalare i diritti civili a un qualsiasi procuratore della Repubblica serve un referendum non una legge pasticciata ovviamente si parla della legge sulle unioni civili siamo al quotidiano il tempo di Roma i favori a partite amici aveva ragione il tempo sconti e locali dati senza contratto dal Campidoglio dopo i nostri scoop la Corte dei Conti condanna i funzionari e poi in alto si parla di Roma 5 miliardi di euro per le Olimpiadi la presentazione ufficiale della candidatura della Capitale per i giochi del 2024 lasciamo il tempo siamo al mattino di Napoli unioni civili rinvio ellite nel PD il partito si spacca sull'ipotesi di stralciare le adozioni gay a fondo di Alfano in alto Ancara strage sui bus 28 morti l'esercito accusa i kurdi e poi lo schiaffo di Eppola l'FBI no ai dati del killer sull'iPhone andiamo ancora avanti siamo al quotidiano della CEI avvenire adozioni e forzature fanno slittare la legge unioni civili niente intesa rinvio a mercoledì e poi vedete un titolo che riguarda la visita del Papa in Sud America Francesco abbatte il muro dei migranti siamo al quotidiano l'unità i bambini ci guardano il PD vuole la legge ma le unioni civili slittano al 24 febbraio dopo il voltafaccia dei Cinque Stelle e Bagarre tra i grillini è rivolta col Vaffa dei Gay contro Grillo Boschi noi non molliamo e poi vedete la foto che riguarda il Papa della Frontiera questa bella foto del Pontefice abbracciato con due giovani nel corso della sua visita in Sud America in particolare in Messico e siamo al manifesto volano gli stralci quotidiano che apre il quotidiano di sinistra apre sempre sulla questione delle unioni civili le unioni civili in un vicolo cieco il PD sconfitto sul canguro chiede una settimana di pausa ma non sa come riaprire la partita e poi autobomba d'Ancara esercito nel mirino almeno 28 i morti proseguiamo con il fatto quotidiano l'ultimo giornale che andiamo a vedere unioni gay Verdini recluta altri senatori per Renzi e poi Rai le invasioni barbariche Rai 3 Vadaria Bignardi amica e fedelissima del Premier e poi ci sono altre nomine a Rai 2 la fondatrice di Magnolia con il renziano Giorgio Gori e poi ancora la notizia che riguarda l'attentato in Turchia di nuovo strage sono stati i kurdi del PKK questa almeno l'ipotesi delle autorità turche lasciamo il sito del Ministero degli Interni abbiamo visto i titoli dei principali quotidiani nazionali andiamo a vedere brevemente velocemente alcuni titoli di carattere nazionale che riguardano il messaggero poi tra pochi minuti come sempre ci sarà la consueta pagina dedicata al meteo e poi nella seconda parte andremo a vedere i titoli che riguardano la cronaca dalle nostre province allora partiamo dal messaggero per andare a vedere abbiamo visto già dal sito del Ministero degli Interni la prima pagina del messaggero vediamo quelle interne con Roma 2024 più pile ed occupati si parla ovviamente della candidatura di Roma per le Olimpiadi Parigi e Los Angeles le quote dei bookmaker scendono dunque Roma gioca le sue carte tre poli olimpici e tanto fascino il 70% delle strutture già esistente andiamo avanti un super debito da 13 miliardi e 600 milioni per la capitale l'IRPEF resta al top e poi i tributi locali vedete a pagina 5 Roma la più tartassata proseguiamo caos unioni civili rinvio a mercoledì a fondo di Alfano il PD dice niente stralci in basso il tormento della Cirinna sotto accusa se uscirà una porcata lascio la politica e poi Renzi striglia i suoi la legge si fa e sulla Stepchild deciderà l'aula in basso la linea del Movimento 5 Stelle adozioni tema impopolare ma base e associazioni gay sono in rivolta Rizzi i soldi nel congelatore un milione a Monte Carlo si parla dell'inchiesta sulla sanità milanese c'è lo scontro nel Carroccio meno autonomia per il governatore andiamo ancora avanti la Cassazione dice Salvini pericolo democratico la replica me ne frego dopo gli insulti del leader della Lega per le inchieste in Liguria i vertici della Suprema Corte attaccano lui insorge via Facebook e siamo a pagina 11 Rai la carica degli esterni è polemica sulle nomine oggi il CDA Fabiano a Rai 1 dalla Tana e Bignardi alla seconda e alla terza rete Campo dall'Orto dice pluralismo culturale Lucy Gray protesta schiaffo agli interni vedete poi le foto dei candidati anzi a questo punto degli ormai eletti direttori delle tre reti proseguiamo autobomba d'Ancara al passaggio dei soldati 28 morti e 60 feriti Turchia sotto shock attaccato un convoglio militare mistero sugli autori non sappiamo chi ci ha colpito e poi pagina 13 il premier contro Monti e l'Unione Europea devastanti le loro regole Renzi mette in discussione il fiscal comprat e contesta le politiche europee poi l'offensiva con lo spagnolo Sanchez un documento per rilanciare lo sviluppo e poi il Papa e gli ultimi al confine del Messico mai più sfruttamento Bergoglio a Ciudad Juarez grande folla in attesa per ore il capitale non può determinare la vita delle persone ha detto il pontefice poi Bergoglio e la distensione con l'Islam invitato in Vaticano l'imam del Cairo proseguiamo sempre cronaca dal mondo Apple shock non violiamo l'iPhone del killer Tim Cook dice no al giudice federale che voleva l'accesso ai dati criptati dell'autore della strage di San Bernardino l'azienda di Cupertino dice sarebbe un precedente pericoloso Trump ma chi si credano di essere devono collaborare andiamo ancora avanti fuga da Rebibbia si costituisce a Tivoli uno dei due evasi il romeno Cattilin Ciobanu 33 anni era in carcere per la morte di un egiziano e per alcune rapine caccia al complice 28enne e poi il caso dell'omicidio dello studente italiano Giulio Reggeni Gentiloni ministro degli esteri avverte l'Egitto chiarezza e in gioco l'onore dell'Italia siamo alle pagine dell'economia Veto dell'Italia al tetto sui titoli di Stato questo è il titolo principale poi bufera l'Inps il direttore generale Cioffi si autosospende allora abbiamo il tempo prima del meteo di andare a vedere qualche titolo già di cronaca regionale per quanto riguarda il centro si parla di ospedali reparti e primari la sanità cambia davvero questo il titolo con il punto interrogativo che riguarda proprio la sanità regionale come vengono suddivise le unità operative negli 11 ospedali ma il ministero intanto obietta la mancata integrazione dei nuovi orari dei medici e poi epatite C quasi 500 casi spesi 30 milioni per i farmaci salvavita altrimenti proibitivi ancora avanti c'è questa pagina che riguarda i costi della politica i vecchi vitalizi l'eredità che ci costa oltre 4 milioni soppressi da questa legislatura restano per il passato ecco chi e quanto prende e c'è tutto questo grafico che riguarda i vitalizi dei politici della nostra regione poi ci sono due interviste a Giuseppe Tagliente e a Lanfranco Venturoni siamo arrivati alle cronache provinciali allora andiamo a vedere brevemente le prime due pagine della cronaca abruzzese del messaggero e poi parleremo di meteo con il nostro Giovanni De Palma la prima pagina macro regione fine dei sogni dopo la politica pure Confindustria vedete Confindustria Marche verso Umbria e Toscana sfuma la cerniera adriatico-ionica l'abruzzo dei localismi ora dovrà guardare a sud lo storico economico felice dice scenario sconcertante e poi la strage scusate strade di sangue frontale a Rosciano muore un operaio e poi condanna in appello per Sanitopoli Angelini è credibile l'Aquila il collegio deposita in anticipo per i giudici riscontri oggettivi delle tangenti e poi la sanità privata nel mirino il decreto 4 di D'Alfonso cliniche inchiesta sul travaso di posti letto la seconda pagina l'abruzzo serve una nuova bussola la svolta delle marche verso Umbria e Toscana pone fine al sogno adriatico-ionico dice il professor Costantino Felice e poi in basso si parla di agromafie le campagne pescaresi tra le zone più a rischio d'Italia sono le 7 e 21 possiamo dunque aprire la pagina del meteo e lo facciamo come di consueto con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora Giovanni è inutile dire dobbiamo ripeterci che siamo in inverno siamo a febbraio ma prosegue questa fase di tempo direi buono ma soprattutto continuano ad esserci temperature credo ben al di sopra della media anche questa mattina faceva tutt'altro che freddo esattamente Paolo esattamente prosegue ormai da praticamente un copione che va avanti da mesi questa situazione c'è temperature perennemente al di sopra delle medie stagionali anche se diciamo nelle prossime ore la nostra regione sarà interessata dal passaggio marginale di una perturbazione che invece colpirà duro colperà intensamente le regioni estreme regioni meridionali ma nel suo spostamento verso nord est lambirà la nostra regione dove adesso il cielo è già coperto un po' su tutto il territorio regionale ci sono delle deboli precipitazioni in atto e anche dei banchi di nebbia sul versante orientale della nostra regione diciamo nel corso della giornata saranno possibili delle precipitazioni ma saranno generalmente di debole intensità e più probabili sul versante orientale della nostra regione e nel chietino ma la tendenza è poi verso un temporaneo miglioramento dalla serata nottata nella prima parte della giornata di venerdì mentre successivamente un nuovo sistema nuvoloso tra venerdì e sabato favorirà tra venerdì sera e sabato mattina favorirà un nuovo peggioramento sulla nostra regione ma anche una graduale diminuzione delle temperature torneranno in linea con le medie stagionali ma solo per poco Paolo anche se ci saranno delle precipitazioni tornerà la neve sui nostri rilievi ma non abbondante mentre per quel che riguarda poi la tendenza successiva dal pomeriggio sera di sabato assisteremo a un nuovo deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche perché è prevista la rimonta di un vasto promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che favorirà non solo tempo stabile prevalentemente soleggiato tra domenica e lunedì ma determinerà un sensibile aumento delle temperature anche di oltre 10-12 gradi al di sopra delle medie stagionali quindi farà decisamente caldo per il periodo un caldo anomalo che poi però sarà seguito da un possibile peggioramento nei primi giorni della prossima settimana tra martedì e giovedì grazie al passaggio di una perturbazione ma tutto quello da segnalare quindi un deciso aumento delle temperature tra domenica e lunedì e questa è una chiara ancora se immagine fosse ancora il bisogno anomalia di quello che sta accadendo in questi ultimi mesi Paolo Giovanni prima di chiudere a proposito di anomalie questa non è invece un'anomalia che anche in questi ultimi giorni nella nostra regione è piovuta terra è piovuta sabbia saranno contenti i proprietari degli autolavaggi perché le macchine sono completamente ricoperte da questa patina di sabbia e di terra eh sì perché queste sono perturbazioni afro-mediterranee che pescano un'aria molto calda dall'entroterra algerino e tunisino complici venti di Scirocco poi risalgono lungo il nostro stivale e raggiungono anche la nostra regione poi con le precipitazioni ovviamente si depositano anche ovviamente sulle auto su gran parte del territorio quindi questo è un classico con questo tipo di perturbazioni ma nei prossimi giorni comunque dovrebbe comunque cambiare la circolazione anche se nelle prossime ore ripeto ci potranno essere ancora delle deboli precipitazioni localmente miste a sabbia africana perché in questo momento sono in alto a forti venti di Scirocco sulle regioni meridionali venti in risalita verso il medio adriatico quindi ancora possibili piogge miste a sabbia paolo grazie grazie Giovanni l'appuntamento con te è sempre per domani nel corso di mattino 6 grazie buona giornata e buon lavoro grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di tv6 ringraziamo Giovanni De Palma vi ricordo il sito internet www.abruzzometeo.org che potete consultare ovviamente per restare sempre aggiornati per quel che concerne le previsioni del tempo per la nostra regione poi la pagina facebook uno strumento utile anche per interagire con il nostro meteorologo e restare sempre aggiornati anche in questo caso sulle previsioni del tempo e sull'evoluzione del tempo nella nostra regione prima di fermarci per qualche istante possiamo andare a vedere le prime pagine della cronaca di Pescara dal quotidiano Il Centro la prima pagina le prime due riguardano questa ennesima tragedia sulle strade della nostra regione ieri mattina all'alba in provincia di Pescara Rosciano scontro mentre va al lavoro muore il giovane padre tragedia lungo la bonifica a causa della nebbia ferita una 35enne Mirco una vita per la famiglia scafa il lutto perché questo giovane era originario proprio del piccolo centro in provincia di Pescara andiamo avanti fiume convocati sindaci ma il vertice era annullato gli amministratori avvisati poche ore prima dell'appuntamento cancellato la regione la riunione sull'inquinamento era stata anticipata l'8 febbraio e poi vedete anche i bagnatori pescaresi a Roma ieri c'è stata una manifestazione per la riforma delle concessioni demaniali proseguiamo rifiuti il comune riduce la tassa allo studio per il nuovo bilancio un taglio alla Tari arriveranno altri fondi per il sociale e poi ancora a Pescara sono a rischio 100 edifici storici e poi ancora nuova Pescara il PD esamina le proposte l'ultimo titolo di questa pagina in basso riguarda gli ultimi dati sull'inquinamento polveri ancora sotto i limiti migliora la qualità dell'aria noi ci fermiamo per qualche istante tra poco torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 siamo le pagine della cronaca di Pescara dal quotidiano il centro si parla di sanità la mammografia a Pescara almeno un anno di attesa tempi brevi invece per i test negli ospedali di Popoli e Penne e poi ieri la presentazione dell'evento che riguarda le visite nei centri sociali visite ed esami gratis della vista per gli over 60 iniziativa che è stata presentata ieri a Palazzo di Città vediamo il servizio di Francesca Romana Testi screening e importanza della prevenzione Pescara si concentra sugli under 65 e mette a disposizione i medici della ASL per offrire il servizio di controllo della vista nasce dall'impatto importante dei problemi di vista nella terza età soprattutto perché il più grave fattore di rischio per l'ipovisione è l'età e nasce anche dal fatto che la prevenzione può fare tanto perché ci sono patologie come il glaucoma e soprattutto ancora di più la sofferenza retinica da diabete che se identificate in tempo permettono grandi passi verso la risoluzione ma comunque una gestione tale da evitare che si possa andare incontro a danni gravissimi l'importanza di fare i controlli è motivata anche da quelle che sono denominate malattie silenziose e cioè asintomatiche ci sono alcune patologie della retina e soprattutto il glaucoma che non danno sintomi è il glaucoma chiamato anche il ladro silenzioso della vista perché può arrivare a dare dei deficit visivi soprattutto laterali sul campo visivo importantissimi senza che il paziente se ne accorga e anche problemi della retina e poi possono arrivare a influenzare anche la visione che partono da zone non necessariamente interessate nella visione distinta ma che prima o poi ci arrivano quindi anche in quel caso non essendoci sintomi ci sono patologie in atto e quelle vanno identificate il primo degli appuntamenti è fissato a partire dal prossimo 16 marzo e andrà avanti per un anno inizieremo il 16 marzo poi renderemo disponibile sia la successione dei centri perché più o meno faremo un paio di mesi due mesi e mezzo tre per ogni centro i responsabili dei centri poi prenderanno le prenotazioni ovviamente saranno privilegiati gli iscritti al centro riteniamo che comunque l'informazione che farà parte integrante dello screening perché oltre alla visita faremo anche sia informazione di notizie utili sia rilevamento delle competenze dei cittadini l'informazione fa parte comunque della prevenzione a tutto tondo andiamo avanti chiedeva soldi al cliente condannata alla banca commerciante pescarese si era visto notificare pagamenti per 37 mila euro la sentenza del tribunale civile costringe l'istituto a risarcire il correntista e poi l'incontro Scano firma il suo cd tra i fani in delirio tornerò a Pescara siamo alla pagina di Montesilvano del quotidiano il centro vivere nell'incubo di non trovare più la terra sotto i piedi sei famiglie rischiano di vedere crollare le loro abitazioni l'alternativa a spendere 100 mila euro che non abbiamo e poi una pista ciclabile sul vecchio tracciato ferroviario la Montesilvano Colle Corvino Cappelle in basso reperti del XVII secolo in dono al comune l'associazione Nuovo Saline scopre lavorazioni in ferro tra la strada Lungo Fiume e le pendici del Colle ancora cronaca dall'area metropolitana di Pescara i Cinque Stelle scelgono Sarchese Francavilla l'avvocato 48enne indicato dal Movimento come candidato sindaco al voto del 12 giugno ancora Francavilla la galleria Le Piane è chiusa per lavori questa notte poi rubavano nei negozi due denunce andiamo avanti c'è pagati più controlli su fossi e torrenti l'assessore Sborgio affirma una proposta di legge contro le frane a San Giovanni Teatino si lavora per come imparare l'arte di fare dolci andiamo ancora avanti siamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara gli 88 lavoratori della CIR chiedono aiuto al prefetto Tocco da Casauri ha chiesto un confronto diretto con i responsabili della IR e poi Popoli il sindaco Galli in cinque anni dice pagati circa due milioni per gli espropri a Colle Corvino candidatura il sindaco Zaffiri tenta il bis e poi la cronaca a Loreto Aprutino bimba di due anni cade dalle scale soccorsa dal 118 è stata tenuta sotto osservazione in ospedale poi Penne rimpatriata dopo 40 anni per la quinta B del liceo scientifico e al volto santo si prega per lo scrittore Paul Budd andiamo alla pagina di Chieti del centro ex Carichieti il primo dramma perde i risparmi viene colpito da Ictus il padre di una ragazza disabile aveva acquistato i bond subordinati per garantire un futuro alla figlia sono stati azzerati e poi la battaglia anti-elettrodotto porta Terna in tribunale per riprendersi il terreno siamo a Lanciano e poi il maltempo di un anno fa danni da nubifragio oggi la Mediolanum eroga fondi a 7 teatini poi la cronaca Davasto rapinatrice incastrata dalla targa dell'auto siamo alla pagina dell'Aquila a Sulmona dunque in Valle Peligna muore a 56 anni mentre si allena Mario Santo Stefano è stato stroncato da un malore mentre correva insieme ad altri appassionati di atletica Tagliacozzo non è stato un attentato il PM Paladino dice in paese si sta diffondendo un allarme sociale basato sul nulla e poi l'Aquila Ad Alfonso torna a scuola all'Aquila abbiamo visto anche dalla prima pagina del centro proprio l'edizione dell'Aquila questa notizia il presidente della regione vedete nella foto insieme al sindaco Cialente tra i liceali e poi inchiesta all'Aquila balconi crollati del piano case e la procura vuole il processo pagina di Teramo del centro spariti 370 mila euro delle slot a giudizio imprenditrice di Tortoreto accusata di peculato non avrebbe vessato i soldi all'erario e alla società di riscossione in alto la cronaca giudiziaria morì disidratato il tribunale nomina un pool di periti si parla del processo Piccioni poi Roseto camionista trovato senza vita in macchina si tratterebbe di suicidio e poi Castiglione addio a Giannetti ex campione di biliardo infine a fondo pagina la truffa anziani raggirati dal falso avvocato perdono 3.500 euro siamo alle pagine del messaggero sempre per quanto riguarda la cronaca dalle nostre province partiamo da Pescara sulla tassa di soggiorno è già scontro l'opposizione chiede garanzie sull'uso delle risorse pagheranno un euro al giorno anche gli utenti di Ayrnub e poi cultura povera Pescara ingrata l'ensemble 900 annuncia l'addio alla città e poi no alla Bolkstein sia alla proroga i balneari abruzzesi invadono Roma e poi Francavilla il patto Lucianiaca per il mare pulito ed Alfonso incontra il sindaco di Francavilla soldi ed interventi per un'estate di tuffi senza divieti avevamo sentito proprio su questa vicenda qualche giorno fa il primo cittadino di Francavilla Antonio Luciani poi la campagna di Comune Asl visite oculistiche gratuite per over 60 abbiamo visto poco fa il servizio ancora cronaca da Pescara travaso di posti letto indagine del NAS sul piano delle cliniche i carabinieri stanno acquisendo atti e documenti negli uffici dell'assessorato alla sanità sotto la lente il decreto 4 di D'Alfonso e poi la battaglia vinta malati psichiatrici borse confermate in basso una rete per salvare i tesori archeologici schianto nella nebbia muore un operaio parliamo dell'incidente mortale di ieri a Rosciano la vittima è Mirko Martelli dipendente della Imte un buon padre un gran lavoratore scafa divisa tra ricordo e dolore poi a Montesilvano da Cantagallo a Di Mattia la marcia silenziosa degli ex in basso altre cronache dalla provincia di Pescara furto da 30.000 euro e buio fitto sul colpo al Conad e poi Montesilvano una pista ciclopedonale sul tracciato del trenino e tocco da Casauria ex Cir assemblea tesissima minacciato il blocco della A25 siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero parco del castello nuovo look con 1.200.000 euro della fondazione e poi il caso signora Novantenne blocca i lavori per due volte del cantiere in centro e poi l'Alexio Magistralis ieri di imposimato molto perplesso dallo sperpero di fondi pubblici e poi l'allarme ad esca minore online patteggia un anno e siamo alla seconda pagina della cronaca dell'Aquila fondi per lo sviluppo saranno 263 milioni e siamo invece a Tagliacozzo per la piazza gremita per la fiaccolata grande segnale di solidarietà al sindaco di Marco Testa dopo l'incendio l'altra notte delle sue tre auto di famiglia durante la manifestazione c'è stata anche la serrata delle attività commerciali in tutto il comune Avezzano svaliggiata la casa del direttore di un centro commerciale Sulmona acqua inquinata indaga la forestale sempre a Sulmona muore sulla pista durante l'alluanamento e restando nella città Peligna politica dai parroci appello alle nuove generazioni poi Avezzano supera nella lotta un'altra vincita e sempre dalla città marsicana la cerone rassicura sulla banda larga proseguiamo cronaca di Chieti del messaggero Cucurullo denuncia ancora denuncia ancora indagato il direttore generale del vecchio l'accusa di estorsione per le lettere di messa in mora all'ex CDA dell'Ateneo sono tranquillo ho seguito la legge il mio è stato solamente un atto dovuto ha detto il direttore generale poi in basso D'Agostino servizi sociali nella comunità della sorella l'ex assessore punta la struttura di Sorvera per la pena alternativa siamo a Lanciano bancario infedele truffa 62 clienti un dipendente della BLS ora licenziato avrebbe movimentato circa 100.000 euro in ben 198 operazioni differenti non richieste a tessa maxifurto al bar in trappola il lade ad ortona camion contro l'auto grave un 19enne basto colpo al punto scommesse è scattato il primo arresto e via al porta a porta anche alla marina di basto infine tornando a Lanciano anche in centro arrivano gli ecobox siamo alla pagina di Teramo e Teramo provincia Campitelli e Di Giuseppe ora rischiano il processo concluse le indagini per Dirti Soccer la dirigenza nei guai per i responsabili della società è ipotizzato il reato di frode in competizioni sportive Villa Capuani Celommi diventerà polo museale previsti 5.000 studenti all'anno a Torricella sicura l'università sarà capofila previsti percorsi scuola lavoro un orto botanico e laboratori vediamo il servizio che abbiamo realizzato in merito servizio curato da Elisa Leuzzo il progetto di cui l'università di Teramo è capofila è stato finanziato dal ministero per 90.000 euro e riguarda diversi ambiti l'ampliamento dei laboratori didattici presso la struttura museale la valorizzazione del giardino storico di pertinenza della villa Capuani Celommi l'alternanza scuola lavoro la formazione dei docenti segna un ulteriore passo verso la valorizzazione delle risorse del territorio le risorse del territorio sono rappresentate non solo dal palazzo storico e dall'orto botanico che vengono valorizzati ma mi permetto di dire anche dall'università che ha raccolto questa sfida insieme agli altri agli altri enti il percorso artistico è sviluppato attraverso le collezioni riguardanti opere d'arte di illustratori della Divina Commedia il percorso storico muove da reperti appartenuti al medico pediatra Mario Capuani martire della resistenza la fondazione ha delle collezioni preesistenti di stampe che illustrano la Divina Commedia stampe importanti anche Salvatore Dalì e poi c'è una parte che riguarda tutta la parte naturalistica che non può stare in giardino quindi il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma digitale che sia fruibile attraverso la rete che quindi faccia conoscere le collezioni interne e esterne cioè i giardini e la collezione museale e che possa essere fruibile appunto dalla rete ma che si attiva anche all'interno del museo il percorso naturalistico florovegetazionale si sviluppa sia all'interno dell'immobile che all'esterno nell'orto didattico e nel giardino storico noi ci occuperemo del giardino con recupero di specie autoctone e la valorizzazione per esempio di specie da frutti di bosco e in più cercheremo di mettere su un giardino di piante officinali perché Villa Capuani l'eroe della resistenza Capuani studiava e curava attraverso i principi attivi delle piante officinali ancora dalle pagine del messaggero siamo a Teramo cardiochirurgia paziente ringrazia con una festa poi BCC denunciato De Flavis soldi in cambio del mutuo e poi Berardini del Movimento 5 Stelle consigliere comunale chiede un'indagine sui conti della Teramo Ambiente Forlini sì il ruzzo resta un carrozzone il presidente accusa ora che servirebbero assunzioni subiamo le conseguenze delle gestioni negative del passato il potabilizzatore di Montorio a pieno regime solo per le emergenze entro l'anno appaltata la cisterna di Giulianova e poi al Badriatica il carnevale estivo era un caso politico a Nereto scariche abusivi denunce e fabbriche chiuse proseguiamo Roseto il caso del PD spaccato Sottanelli emigra falso dice il parlamentare poi Giulianova pedonalizzazione nuove polemiche infine a Tortoreto slot machine donna finisce a giudizio siamo alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine che riguardano il quotidiano la città di Teramo partiamo ovviamente dalla prima pagina per vedere i titoli principali nell'edizione di oggi chiusa l'inchiesta Dirti Soccer si parla dunque di sport tra gli 84 indagati di Catanzaro ci sono anche Campitelli di Giuseppe e di Nicola nei guai per frode vediamo le pagine interne cronaca regionale in 20 anni i tassi locali cresciute del 250% l'analisi di Confcommercio avere un'impresa a Roma costa molto di più che averla a Trento e poi la cronaca un 55enne muore mentre si allena sulla pista di atletica sul Mona e poi Bolkstein Monticelli consigliere regionale del PD dice impegno comune per il doppio binario andiamo avanti Dirti Soccer Campitelli e Di Giuseppe a rischio processo chiusa l'inchiesta presidente ed ex DS dovranno rispondere di frode in competizioni sportive scontro sulla teramo ambiente i nodi vengono al pettine duro il confronto con l'amministratore delegato Ranalli PD e Movimento 5 Stelle richiamano il sindaco le sue responsabilità sulla partecipata ieri vi avevamo proposto nel corso del nostro telegiornale delle nostre edizioni un servizio proprio su questa vicenda salvo dopo 24 giorni d'operazione non stop al cuore 61enne sottoposto ad un avveniristico intervento multidisciplinare al Mazzini di Teramo città della bici e del pedone pista ciclabile la teramana piena di errori da manuale vedete queste foto e poi ancora Teramo l'INAIL scrive una signora morta altro che informatizzazione la seconda volta in due anni andiamo ancora avanti provincia coloranti chimici sversati nel Vibrata blitz della finanza e della capitaneria in tre opifici cinesi di Nereto scoperti 21 lavoratori in nero e poi in basso la provincia candida tre scuore per il piano triennale della regione ancora cronaca della Val Vibrata Martinsicuro amianto nell'ex fornace di Villa Rosa il comune cerca i responsabili corropoli al Val Vibrata college i laboratori gratuiti di latino e matematica e poi petizione per cambiare ancora il senso di marcia di Via Vittoria siamo ad Alba Adriatica in sempre ad Alba maschere politiche sull'organizzazione del carnevale estivo proseguiamo in cassa 400 mila euro dalle slot senza versare le tasse all'erario 43enne di Tortoreto incaricata da una società a processo per peculato e poi area di crisi complessa opportunità per Colonnella proseguiamo andiamo avanti alla pagina di Giulianova e Mosciano per tutti la priorità è riqualificare il Lido altro che quadrilatero pedonale fronte del no si fa sempre più ampio sempre a Giulianova il comune sollecita il consorzio a presentare il progetto Mosciano Sant'Angelo ladri in casa all'ora di cena non si plaga l'ondata di furti è sempre da Mosciano gemellaggio in vista tra le donne russe e quelle di Mosciano Sant'Angelo Roseto Pineto Atri e Silvi muore a 69 anni durante l'operazione Silvaloro ricoverato d'urgenza al Mazzini di Teramo per un aneurisma e poi erosione interventi da 4 milioni di euro per le scogliere di Silvi e ancora a Pineto ciclismo paralimpico Alex Zanardi sarà lunedì nella cittadina Teramana e ancora da Pineto Marinella Sclocco assessore regionale alle politiche sociali in visita alla casa cara di Scerne proseguiamo siamo a Economia in città informare il contribuente un dovere sociale proseguiamo per arrivare alla pagina dello sport per parlare del Teramo la grinta di Perrotta crediamo ai playoff il difensore del Teramo analizza il campionato il terzo posto è ancora in ballo e ce lo possiamo giocare a proposito di sport andiamo a vedere le pagine dello sport del centro e del messaggero partiamo dal quotidiano il centro per vedere la prima pagina che riguarda il Pescara il Cagliaritano Cocco se segno non esulto ieri intervista dell'attaccante biancazzurro Cagliaritano Doc che potrebbe perché no scendere in campo nella gara del Sant'Elia e poi c'è la carica del rientrante Verre faremo una grande partita noi andiamo però ad ascoltare il giocatore del Pescara Andrea Cocco Andrea Cocco allora arriva questa partita con il Cagliari una partita vista da un Cagliaritano Doc come te oggi però giocatore del Pescara sicuramente una partita un po' particolare visto che si gioca nella mia città però al di là di questo sarà una partita come tutte le altre salvo qualche emozione iniziale però per il resto andremo lì per fare la nostra partita parliamo di questa gara del Sant'Elia inutile sottolineare una sfida difficile contro una squadra che in casa ha sempre vinto eccezione fatta per la gara con il Como cosa occorrerà per fare il risultato positivo contro il Cagliari è andata io mi ricordo che le abbiamo messi parecchie difficoltà con il nostro atteggiamento quindi sicuramente abbiamo una partita molto attenta una squadra molto corta perché loro soprattutto negli spazi possono avere il sopravvento e noi deviamo essere bravi a non lasciarli e andare sempre alla ricerca dell'uomo più vicino per non farli ripartire per chiudere Andrea questa è una partita importante ma sicuramente non decisiva il campionato è ancora molto lungo però fare risultato positivo a Cagliari sarebbe importante beh sicuramente mancano troppe partite perché sia determinante però sicuramente un risultato positivo là cambiamo un po' le cose nel corso del campionato quindi speriamo bene Al Pescara-Lanciano Maragliulo cambia per continuare a vincere il tecnico con lo Spezia rilancia Di Matteo Terzino è già donato a centrocampo dopo due successi di fila cerca il Tris e intanto incassa i complimenti di Daversa e poi Camplone ricoverato in ospedale forse salta l'anticipo con il Latina ma l'ora è per il tecnico pescarese del Bari che vedete inquadrato nella foto Lega Pro per Rotta Terramo da terzo posto il centrale dice salvezza se ci ridanno i punti i play-off se ci ridanno i punti i play-off ha detto per Rotta sono alla nostra portata L'Aquila per Rone per Savona con il dubbio del Tridente e poi Serie D Avezzano Paris paga i rimborsi a Chieti Pomponi liquida Vano ed evita un punto di penalizzazione calcio di eccellenza Coppa Italia il palo nega la vittoria al San Salvo 0-0 ad Agnone tra Vasto Girardi e San Salvo e siamo al basket ieri turno infrasettimanale la Proger si è resa nel finale a Trieste Giuliani che si sono imposti per 82 a 68 e poi andiamo a vedere anche in Serie B si sono giocate delle gare in particolare il derby tra Giulianova ed Amatori Pescara con la vittoria dei Pescaresi per 68 a 73 in rimonta questa sera in A2 Roseto senza Ferraro e Mariani giocherà contro il Legnano ancora avanti vediamo appunto il servizio sulla vittoria dell'amatoria Giulianova in rimonta i Pescaresi si sono imposti per 73 a 68 lasciamo le pagine dello sport del centro per vedere quelle del messaggero partendo da Pescara Verre Pescara vinco e resto il centrocampista dice a Cagliari per avvicinare la Vette se andiamo in A voglio giocare qui almeno un altro anno Cocco abbiamo ascoltato per me che sono sardo è una partita speciale il sogno è realizzare un gol decisivo per la promozione inchiesta d'Irti Soccer il 26 febbraio l'appello per l'Aquila e poi lo spavento problemi cardiaci Camplone ricoverato calcio di Lega Pro per Rotta Teramo bisogna credere nei playoff dice il difensore Maragliulo cambia ancora il Lanciano per la trasferta di La Spezia il tecnico pronto a tornare al 4-3-3 e a proposito della gara con lo Spezia andiamo a vedere il servizio realizzato da Andrea Costantini anche gli ultimi sono stati giorni concitati per la Virtus Lanciano la vittoria thriller col Modena lo stop alla trattativa con Stefano Bisogno il deferimento per il mancato pagamento di ritenute e contributi entro metà dicembre il punto di penalizzazione inflitto per il precedente deferimento e che va ad aggiungersi all'altro punto legato al mancato pagamento nei termini previsti dell'IVA del 2012 se a ciò aggiungiamo la rivoluzione tecnica di gennaio con la squadra in buona parte rifatta e svecchiata e l'avvento in panchina di Maragliulo per D'Aversa si capisce quanto questo mese e mezzo appena consumato del 2016 sia stato movimentato in casa Virtus in tutto questo bailam la buona notizia è che sul campo la squadra tranne che per la giornataccia contro il Trapani ha non solo risposto presente ma ha fatto risultati che la fanno restare in linea di galleggiamento per il discorso salvezza anche se all'orizzonte si staglia un terzo punto di penalizzazione ma l'entusiasmo e in certi casi l'incoscienza e la voglia di emergere dei tanti giovani può essere determinante le prodezze di Bonazzoli e di Francesco la ritrovata a verve di un asso della cadetteria come Guido Marilungo la crescita di Regione Boldor la classe di Vitale sono alcuni dei fattori oltre anche alla buona sorte contro il Modena che hanno aiutato Primo Maragliulo che nelle sue prime due partite ha fatto il pieno nelle prossime settimane il campo tornerà ad avere la priorità assoluta nelle attenzioni di una piazza agitata da fuga di giocatori e presunte cessioni societarie la sfida per la salvezza ripartirà dalla difficile partita di La Spezia contro una squadra che si sta ritrovando sarà la partita di Antonio Piccolo il grande ex che a fine 2015 ha salutato Lanciano e che dopo aver superato un infortunio ora ha un ruolo da protagonista nel 4-3-3 di Mimmo Di Carlo probabile presenza da titolare anche per l'altro ex il difensore Filippo De Coll mancheranno gli squadificati Misic e soprattutto Calaio ha andato in gol due volte con Livorno domenica scorsa Maragliulo sta lavorando con tutti gli effettivi a disposizione e avrà l'imbarazzo della scelta la squadra si allenerà domani mattina a San Buceto e partirà subito dopo alla volta della Liguria Anciano che partirà oggi per il capoluogo Ligure ancora notizie ancora titoli dalle pagine dello sport del messaggero basket il roseto a legnano con l'assenza di Ferraro e poi Proger nella gara di ieri sconfitta a Trieste fatale il secondo tempo e poi in basso calcio a 5 l'acqua e sapone riparte ospitando Genzano basket Pepe regala il derby all'amatori nella gara di Giulianova prima di salutarci abbiamo il tempo per andare a vedere i titoli dei tre quotidiani sportivi per quanto riguarda ovviamente la giornata di oggi ieri si sono giocate alcune gare della Champions League partiamo dalla gazzetta dello sport Cristiano Ronaldo Doma la Roma giallorossi ad altezza reale poi il gioiello di Ronaldo andata degli ottavi di Champions all'Olimpico finisce 0 a 2 e poi miti a San Siro Murigno il fenomeno per Inter Sampdoria e poi calcio scommesse vedete in alto via l'udienza la Federcalcio sarà parte civile ma non per Conte in basso giochi del 2024 storia e lo costo si parla ovviamente della candidatura di Roma andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport fenomeno Ronaldo una magia di Cristiano Ronaldo spiana la strada al Real arbitro sotto accusa Real che si è imposto per 2 a 0 il Napoli rinuncia di Higuain l'argentino riposa contro il Viraleal gioca Gabbiadini e poi in alto Roma 2024 pronta alla sfida olimpica vediamo i risultati delle gare di ieri in Champions League con la vittoria per 3 a 2 dei tedeschi del Wolfsburg in casa del gente poi come detto Roma Real Madrid 0 a 2 questa sera si giocano le gare di Europa League in programma alle 19 Fiorentina Tottenham e Villareal Napoli alle 21 05 Galatasaray Lazio e chiudiamo con tutto sport Cavani Guindon li manda papà Juve scatenata non solo in campo tra le due trattative più importanti per giugno diventano affari di famiglia e poi calcio mercato da rifare ecco come infine in alto Real e Arbito troppo per la Roma siamo così giunti davvero al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo la prima edizione del nostro telegiornale come sempre alle ore 14 grazie e buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti